dopo la lega argento siamo tornati qua andremo ovviamente a rifare la lega la lega sia la lega spiegel a tutti i giorni la lega la lega il abbiamo anche delle casse da aprire cioè hanno rimesso le casse su brawl io questo non me l'aspettavo è stata una bella sorpresa ovviamente adesso andremo a spacchettare queste cose qua 10 gem attenzione mitico mitico 500 monete bene altra star raro raro niente di che prossima cassa gratuita quanto faremo queste cose qua attenzione perché tra 7 gem possiamo acquistare 20 super casse che non voglio dire niente ma se comprassi qualche gemma magari potrei fare il super spacchettamento proprio apposta per poi nel frattempo andremo a fare questa lega classificata e proveremo ad arrivare in alto andiamo a scegliere l'erri attenzione attenzione vediamo se possiamo spaccare qualcuno attenzione muori 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 cazzo cazzo non si sa dove siano finiti attenzione io sto per morire sto per morire vediamo se riesco ad ucciderlo vediamo se riesco ad ucciderlo per poco per poco per poco per poco per poco qualche altra gemma recuperata attenzione perché siamo in forte svantaggi cioè siamo in vantaggio non sto capendo niente cosa sto a dire incredibile prendiamo tutto non non lo so come fa un culo fa un culo fa un culo per tre ok 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 abbiamo vinto abbiamo vinto accontentiamoci così non sa come non mi interessa attenzione perché adesso c'è rapina il rapino il rapino che cosa mi devo prendere rapino io non lo so si disconnettono così a cazzo vabbè vabbè ko attenzione perché ko potre prendermi anche jess eccoci qua attenzione il mister mazza qua è morto dai che è morto dai che è morto ok ok ne rimane uno praticamente l'abbiamo vinta la partita dai ok super vittoria facile dai che sei qua oh l'ho ucciso l'ho ucciso con un niente incredibile distrutti attenzione perché è ricapitato l'evento ko incredibile perché 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 adesso c'è semino in cappoghi posso gelindo raga gelindo mi manca usare questo brawl attenzione 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 perché lo possiamo uccidere ok primo round vinto vai che è morto vai che è morto distrutti di nuovo di nuovo ko incredibile io vorrei riconfermare gelindo ma prendo gessere vediamo di vincere adesso questa partita attenzione perché con gelindo sono fortissimo due su due eliminati incredibile incredibile dove si è ficcato l'altro eccolo lì tanto sei morto sei morto subito un'altra vittoria incredibile venite tutti e due centro di nuovo vai venite 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 qua ma io ho detto gelindo prima volevo dire il jazz vabbè ho eliminato qualcuno però i nostri compagni sono morti sono morti vanno a prendere a quello mamma mia no ricaricati attenzione è morto mamma mia 1v1 vai che lo puoi uccidere adesso ci penserò io tranquilli io piazzo la bella torretta qui metto l'overdrive e prova c'è adesso ad uccidermi eccolo lì dove affanculo fa niente fa niente bisogna sacrificare il nostro compagno ogni tanto abbiamo vinto si credeva furbo quello la mitico attenzione un cazzo ci si in dominio io prenderei celli ok cominciamo bene vieni qua che ti apri il culo ok teniamo duro raga teniamo duro cazzo teniamo duro sta minchia però così guarda ti faccio vedere io fa un culo però l'ho ucciso di questo sono soddisfatto poi siamo in super vantaggio quindi non ci dovrebbero essere problemi in realtà cazzo dai che praticamente abbiamo vinto dai dai che abbiamo vinto praticamente perfetto bronzo 2 subito arraffagemme di nuovo io mi riprenderei jesse vediamo se riusciamo ad ucciderlo a questo perché ok ok prendiamoci ste gemme oh la madonna perfetto l'avevo incatenato lì io ci metto questo qua ma dove vuoi andare cazzo attenzione incredibile uccideteli uccideteli cazzo uccidete questo per favore ma non si può andate a prendere le gemme andateci grandi ritornate ritornate dai che praticamente abbiamo vinto dai ok 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 io rimetto la torretta qua dai dai in teoria in teoria abbiamo vinto ma andate a me nascondere cazzo che cazzo porca troia se vi fate uccidere mi cazzo eh ok ok ce l'abbiamo fatta non so per quale santo ma ce l'abbiamo fatta ricercati in ricercati io metterei metterei un personaggio più tipo boh ecco qua già c'erano fottuto la stella blu già questo non è un buon segno vediamo se riusciamo ad ucciderli ok ok fanculo va muori lo blocchi ma non lo uccidi ma che cazzo è non so come l'ho ucciso non lo so ancora ne ho uccisi ancora incredibile si venite qui venite qui venite qui vieni qua cazzo no 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 per un colpo per un colpo non è possibile non è possibile no non l'accetto non l'accetto la sconfitta così non fatevi uccidere non fatevi uccidere non è giusto così non è giusto non è giusto non è giusto io mi devo incazzare così eh io mi devo incazzare riproviamo voglio di nuovo quell'evento voglio quell'evento dammi quell'evento ricercati perfetto io mi devo riprendere boh io mi devo riprendere boh devo riprovarci perché ho fatto delle cose assurde ne ho uccisi tantissimi non privacy Grazie.